Noi avevamo tre femmine e vivevamo con questo papà che era un appunto artista pigro, si svegliava a mezzogiorno, molto così caotico, molto caotico. È stata molto affascinata da questo giovane padre e la madre l'avrebbe vista di più con un matrimonio borghese, no? Magari con un medico, con un professionista, invece pensa lei si è messa con un uomo sposato, separato, divorziato, una tragedia. Riguardando le foto, i video di quel momento, lei è felicissima, lei ha un altro sorriso. Forse si è sentita molto amata, si è sentita molto protetta. Aveva 11 anni di più mio padre, per cui era proprio una figura un po' paterna, secondo me.